Ok, questo esercizio prevede il fatto che abbiate molto, molto spazio. È un piccolo sprint, si partirà in posizione prona, quindi sdraiate terra. Da qui, con un movimento esplosivo, ci alzeremo in piedi ed eseguiremo uno sprint. Cercate sempre di avere lo spazio adeguato e le giuste sicurezze per non incorrere e farvi male. Grazie.